Solo negli ultimi mesi il santuario Pelagos, una porzione di mare tra Italia, Francia e Principato di Monaco, è diventato la location di uno spettacolo naturalistico in diretta. Proprio qui, davanti alle coste della regione Liguria, i droni dell'istituto Tetison Lussi in collaborazione con la Guardia Costiera hanno immortalato numerose famiglie di capodogli e sempre qui un team di scienziati ha osservato oltre 60 delfini, 15 dei quali cuccioli, per un avvistamento definito straordinario. Ma perché il santuario Pelagos è popolato da tantissimi mammiferi marini? L'accordo Pelagos, che ha istituito l'area del santuario, è stato firmato nel 1999 a Roma, tra l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco. Questi tre paesi si sono accordati al fine di condurre delle azioni concertate e tripartite per stabilire una conservazione corretta delle specie che frequentano regolarmente il santuario e poter gestire in maniera ottimale quelle che sono le attività entropiche dell'area. Ora, perché è stata scelta proprio quest'area? Perché quest'area è caratterizzata da una straordinaria biodiversità, è riconosciuta come un'area di interesse naturalistico, di interesse educativo, di interesse economico, sociale, è caratterizzata da una straordinaria biodiversità dovuta al fatto che la corrente ligure con i canyon sottomarini fanno sì che ci sia una risalita di nutrienti, quali ad esempio il krill, nel caso della balenottera comune, i cefalopodi, nel caso di altre specie che per l'appunto attirano in quest'area ben otto specie di mammiferi marini tra i mesi primaverili ed estivi che qui per l'appunto vengono a nutrirsi. Che cosa dobbiamo fare in caso di avvistamento di un cetaceo? Quali consigli possiamo dare ai nostri telespettatori? Nel caso di un avvistamento di cetaceo ovviamente ci si deve approcciare in maniera rispettosa per evitare di essere causa di turbativa rispetto all'animale o al gruppo di animali. Esiste un codice di buona condotta e questo codice di buona condotta che appunto è approvato dalle parti dell'accordo prevede che esista una zona di un diametro di 100 metri tra il gruppo di animali o l'individuo e l'imbarcazione e questa zona è una zona vietata, quindi non si possono avvicinare gli animali al di là dei 100 metri. Tra i 100 e i 300 metri invece esiste una zona di vigilanza, ovvero una zona all'interno della quale si deve fare particolare attenzione alle modalità con cui si effettua l'osservazione. Anzitutto l'osservazione non deve durare più di 15 minuti. Se ci sono molte imbarcazioni in zona, ogni imbarcazione può avvicinarsi nella zona di vigilanza per non più di 15 minuti una alla volta e poi segue la seconda. Il gruppo o l'animale non devono essere disturbati, quindi non gli deve essere tagliata la strada, non devono essere seguiti, si deve procedere parallelamente e a una velocità massima di 5 nodi. Ovviamente si devono spegnere scandagli e sonar che potrebbero costituire elementi di perturbativa a livello di inquinamento acustico per questi animali ed inoltre non si deve nuotare con questi animali e non si devono nutrire, quindi non si deve dare loro da mangiare. Nel caso in cui invece ci fossero dei piccoli nel gruppo si deve assolutamente e immediatamente abbandonare la zona. E invece in caso di spiaggiamento di un cetaceo come dobbiamo comportarci? La prima cosa che si deve fare è assolutamente non toccare la carcassa, ad esempio nel caso in cui si tratti di un animale morto, ma anche nel caso in cui si tratti di un animale vivo. L'animale non deve essere toccato, anche perché ci possono essere possibilità di trasmissione di malattie. Quello che si può fare in entrambi i casi è allartare la guardia costiera competente oppure il numero di emergenze in mare del 1530. Sempre più persone finalmente si stanno rendendo conto dell'importanza del pianeta blu, un mondo sommerso e per certi versi ancora sconosciuto. Come possiamo contribuire alla conservazione della biodiversità del santuario Pelagos? I paesi che hanno fondato l'accordo hanno deciso lo scorso anno di creare un fondo volontario Pelagos, ovvero uno strumento attraverso il quale chiunque lo ritenga opportuno, privati cittadini piuttosto che enti e associazioni possono fare un contributo alle attività dell'accordo, scegliendo tra l'altro l'attività del programma di lavoro che essi stessi intendono finanziare. Ovviamente nel nostro quotidiano esistono delle modalità attraverso le quali si può limitare il nostro impatto sul mare. Una di queste ad esempio mi viene in mente è la scelta di chi frequenta il mare di rivolgersi a dei servizi che utilizzino il mare in maniera sostenibile, in maniera rispettosa. Mi viene in mente ad esempio l'attività del whale watching che è sempre molto più richiesta. Esistono degli operatori che sono stati certificati high quality whale watching, ovvero degli operatori che realizzano questa attività avendo seguito una formazione e utilizzando dei canoni che sono stati condivisi con l'accordo internazionale dell'Acobams e anche l'accordo di Pelagos. Stessa cosa nel caso in cui si navighi in mare, quindi prediligere le compagnie che svolgono questa attività nel rispetto dell'ambiente in cui lavorano. Per quanto riguarda l'accordo Pelagos, ad esempio un'altra attività che si può svolgere direttamente attraverso il sito internet è quella di aderire ai principi del codice di buona condotta che vi spiegavo poco fa. Quindi se si intende sottoscrivere questo codice, impegnarsi al suo rispetto, lo si può fare direttamente sul sito internet dell'accordo e ci si impegna attraverso questa sottoscrizione, attraverso il divenire ambasciatori Pelagos, ci si impegna anche a farsi portavoce degli obiettivi dell'accordo e della modalità di utilizzo del mare in maniera sostenibile. E poi un ultimo punto che vorrei sottolineare è dato dal fatto che la protezione del mare non la si fa soltanto in mare, ma la si fa anche da terra e si comincia da terra, si pensi soltanto all'inquinamento che arriva da terra, si pensi soltanto alle plastiche in mare che arrivano da terra. Quindi quando si getta qualcosa per terra, anche se si è in una zona che apparentemente non ci sembra avere legami con il mare, si può essere certi che questo oggetto che si è gettato a terra, se non recuperato, sarà comunque scaricato in mare presto o tardi.